Tuttavia noi riusciamo a distinguere abbastanza chiaramente delle frasi che Graziani dice prima di rientrare nella tenda quando per l'appunto dice sono stato trattato bene e con cavalleria. Durante il filmato voi vedrete degli strani scatti tra un'inquadratura e l'altra. Noi dobbiamo ricordare che le cineprese a quei tempi non avevano lo zoom, non esisteva, e montavano una torretta con tre obiettivi. Il cameraman in questo caso fa ruotare velocemente la torretta per passare, avete visto, per passare da un'inquadratura a quella successiva avvicinandosi quindi sempre più a Graziani. Aspetta! 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 Dunque fino ai tempi dove non c'è un regime fascista...